Due attentati di Lamitardi e una macchina incendiata. Notte e movimentata da Andrea. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo che sono stati fatti esplodere. Due ordini è accaduto tra l'1 e l'1.30 rispettivamente all'ingresso di un'agenzia per pratiche automobilistiche di via Ferrucci e davanti ad una concessionaria d'auto in via Togliatti. Le deflagrazioni hanno causato solo danni agli immobili e le autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Per fortuna nessuna conseguenza a persone, solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, questi ultimi impegnati ad accertare eventuali problemi di staticità degli immobili. Sono al vaglio degli investigatori ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude ovviamente la possibilità che i due episodi possano essere collegati tra loro, visto che entrambi i locali presi di mira appartengono allo stesso proprietario. E qualche ora prima dell'esplosione dei due ordini, non lontano dall'agenzia di via Ferrucci, un incendio interessato alle ore 23, una Nissan Micra parcheggiata esattamente in via Solferino. A dare l'allarme a un passante, che a cortosi delle fiamme, ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona, che hanno tenuto a bada l'incendio con un piccolo estintore, aspettando l'intervento dei carabinieri di una squadra dei vigili del fuoco di Barletta, allertati da una telefonata. Indagini sono in corso per stabilire se l'origine sia di un cortocircuito o un atto doloso.